e supera il turno. Ancora una formazione tedesca, il Borussia Mönchengladbach ha battuto per 5 a 1 lo Sparta di Rotterdam dopo aver pareggiato 1 a 1 all'andata. Gol di Rahn e doppietta di Rahn al dodicesimo e al quattordicesimo. Poi c'è il gol, eccolo qui, segnato da Pinkal e siamo al 3 a 0. Ed ecco poi al trentottesimo il gol di Diliberto e siamo sul 3 a 1, punteggio del primo tempo. Non è finita perché Herbst realizza il gol del 4 a 1 piazzando molto bene la palla, benissimo questo gol. E poi l'ultimo gol, il 45esimo di Crianze, 5 a 1.